Grazie per chi si sta connettendo e allora per noi di FOB è importante organizzare questo tipo di eventi in parte perché tutti quelli che ci seguono hanno interesse nel seguire quello che stiamo facendo. Da tempo stiamo iniziando a promuovere anche dei corsi non più in presenza ma anche in modalità e learning e abbiamo organizzato un corso sull'osteopatia in ambito sportivo e questa serata appunto segue questo filone. Uno dei concetti che cercheremo di far passare è la grande capacità di adattamento della figura dell'osteopata nel contesto in cui si trova, quindi si troverà a lavorare in diverse situazioni e anche in ambito sportivo. Quindi è fondamentale per l'osteopata capire quali sono le tecniche più indicate nelle fasi dell'allenamento, quali sono le tecniche da utilizzare per esempio strutturali o più indicate per una miglior risposta a livello neurovegetativo, immunitario eccetera eccetera. E parlando con gli ospiti di questa sera spesso ci si trova a dover affrontare delle situazioni lavorative in cui bisogna fare in modo che l'atleta professionista, perché stiamo parlando di atleti professionisti, entri in campo per esempio o in questo caso in vasca visto che stiamo parlando di sport acquatici, nonostante non sia magari nelle migliori situazioni, nelle migliori condizioni fisiche, addirittura con dei traumi freschi, questo perché ovviamente non si ha a che fare con il giovane in età evolutiva, con l'amatore, ma con un atleta che deve rendere nel contesto della squadra o comunque deve rendere perché ha alla base una professionalità da dover mantenere quindi degli standard proprio per quanto riguarda il suo lavoro. Quindi è fondamentale che mantenga sempre uno stato di forma fisica, psicofisica ed ecco che quindi è per noi importantissimo lavorare in queste situazioni. Partirei proprio da questo punto per iniziare a parlare con Nicola Barsotti che molti di noi osteopati conoscono. Nicola è un fisioterapista, un osteopata che è membro della SIPNEI e fa parte appunto proprio del comitato di ricerca delle discipline corporee all'interno del gruppo SIPNEI, cioè la Società Italiana di Psiconeuroendocrinologia, oltre a essere un grande divulgatore scientifico e autore anche di diverse pubblicazioni scientifiche, da tempo proprio si occupa di ricerca. Quindi con Nicola vorrei appunto iniziare a parlare un po' trattando l'argomento dell'approccio biopsicosociale in ambito sportivo, che è un argomento particolare ma molto attuale, questo perché all'interno della stessa squadra possono esserci per esempio diversi atleti di età diverse, con esigenze diverse, quindi abbiamo per esempio all'interno dello stesso contesto l'atleta giovane, stiamo comunque parlando di professionisti, però abbiamo magari l'atleta giovane che ha fame, che ha molte energie, che non ha nient'altro per la testa che non concentrarsi sull'allenamento, e magari abbiamo l'atleta a fine carriera, magari con la famiglia, che sta pensando anche magari a cosa fare nel futuro, quindi comunque abbiamo dei contesti sociali totalmente diversi e chiaramente entrambi devono rendere al massimo per la squadra, ma l'approccio che noi dobbiamo avere con loro è totalmente differente, chiaramente le risposte organiche di questi individui sono nettamente differenti, ma l'esigenza della squadra è comunque quella di avere il massimo del rendimento da parte di questi atleti. Quindi Nicola lascio la parola a te, chiedendoti la tua esperienza a questo proposito, e chiedendoti anche di presentarci i nostri ospiti che conosci molto bene perché hai collaborato con loro e sei stato nel particolare, hai collaborato molto con Riccardo e sei stato anche fisioterapista e osteopata di Klaus. Sì, intanto buona serata a tutti. Ringrazio voi della FOB per l'invito e per avermi dato anche la possibilità di rincontrarmi con Riccardo e con Klaus in un contesto particolare, altrimenti con Klaus sì, ci sentiamo perché abbiamo il modo, comunque è nata una bella amicizia, l'età più o meno è quella, insomma lui è un po' più giovane di me, di due anni, però c'è una stretta amicizia. Con Riccardo riusciamo a trovarci poco, anche se in realtà lui lavora vicinissimo al mio studio, ogni tanto riusciamo a trovarci a pranzo, anche con lui è rimasta una bella amicizia. Io ho avuto la fortuna di iniziare la mia attività lavorativa ufficialmente, proprio da neofisioterapista, proprio iniziando a collaborare con Riccardo. Klaus l'ho conosciuto dopo, quando ero già ostropata e diciamo così con Klaus abbiamo avviato tutta una serie di lavori sperimentali, se vogliamo, che poi dopo ci hanno dato anche una bella soddisfazione. Mi fa quindi molto piacere presentare entrambi, perché si parla di due supercampioni da questo punto di vista, Riccardo, pallanotista, pallanotista diciamo così come giocatore in prima battuta e poi dopo come allenatore, mentre invece Klaus è stato un nuotatore anche lì fortissimo. Dico due cose, ecco, Riccardo Tempestini da giocatore è stato campione d'Italia, ha avuto 220 convocazioni nazionali, ha vinto un argento mondiale, due bronzi europei, un oro come ai giochi del Mediterraneo e un oro alle universiadi. Da allenatore è stato forse ancora più prolifico, infatti si discuteva pochi giorni fa insieme quanto sia raro trovare giocatori che hanno vinto tanto da giocatori ma anche da allenatori, perché ha vinto due titoli italiani, una Coppa Italia, due supercoppe europee, una Coppa dei campioni, una Coppa delle Coppe, c'ero anch'io lì in quel momento, una Coppa Lenne e l'oro alle universiadi. Klaus Lanzarini invece è stato un ex nuotatore della nazionale, è stato un olimpionico, campione del mondo nella 4x100 stile libero nel 2006, un oro europeo con la 4x200 stile libero nel 2000, ma a parte questo ha vinto 30 titoli italiani, ha partecipato a quattro mondiali, a tre universiadi, a sei europei, quindi ecco sono due atleti di alto livello. Con Riccardo ho avuto la fortuna di conoscerlo quando ero un bambino nuotatore, a lui era un giocatore all'epoca, e poi dopo ho avuto la fortuna di lavorarci insieme. Molte delle mie esperienze l'ho avuto modo di rielaborarle successivamente studiando, ti hai introdotto il concetto biopsicosociale in ambito sportivo, è un modello che sempre più si sta sviluppando. Cosa vuol dire questo? Che l'atleta non può essere visto soltanto da un punto di vista osteopatico, non può essere visto soltanto da un punto di vista biologico, ma deve essere contestualizzato, cioè è necessario avere un'idea anche della quella che è la componente psicologica e sociale, cioè le difficoltà che può avere all'interno della squadra. Tutto questo va a livello familiare o con la propria fidanzata, moglie se è più grande eccetera, tutto questo va a creare un contesto in cui è più facile avere infortuni o in cui è più invece difficile andare incontro ai infortuni o in cui si può recuperare più o meno velocemente. Ecco, ci sono proprio dei modelli in ambito sportivo che sono stati utilizzati di tipo biopsicosociale legati agli infortuni. Sì, sì, guarda, questo è sicuramente una cosa che è molto interessante. Durante i corsi questa cosa è una cosa che è emersa diverse volte, anche con studi scientifici che ci hai presentato e sicuramente una cosa che mi fa sempre pensare a questo approccio sono le grandi squadre, i grossi team che ci sono proprio, che sono presenti a livello internazionale e sappiamo che molti team hanno proprio più figure che si intersecano tra di loro, proprio interagiscono proprio per seguire questo tipo di approccio. Parlo di grandi squadre come possono essere l'NBA piuttosto che quindi nel contesto del basket, ma anche nel calcio o anche in altre situazioni. Penso che chiacchierando l'altro giorno con Riccardo si parlava anche proprio di questa cosa, di come si sia un po' evoluta la situazione del fisioterapista, dell'osteopata, che all'inizio era un po' una figura marginale all'interno del team, ma che invece poi oggi è a tutti gli effetti una figura che viene ritenuta importante. Lascio la parola a te Riccardo su questo argomento. Sì, intanto buonasera a tutti e vi ringrazio dell'invito. Spero di poter aggiungere qualche cosa a questa interessantissima chiacchierata. È vero, io tra l'altro, ora Nicola ha fatto un po' un breve riassunto anche di come ci siamo poi conosciuti e come siamo venuti in contatto. Io faccio parte forse un po' di una generazione di passaggio da quello che era improvvisazione quasi totale nella gestione di una squadra, ma anche parlo di squadre di livello. Io ho cominciato nelle giovanili comunque della D'Arenante e Florenzia, che a livello parlanotistico italiano è stata ed è una delle società storiche più medagliate, più scudettate. Nonostante questo, tutto quello che riguardava, ma ripeto, non solo le figure che si potevano associare a quella dell'allenatore, quindi il fisioterapista o piuttosto che il massaggiatore, anche solo quello che cercava in qualche maniera era molto così quasi delettantistica di metterti un po' le mani addosso per non parlare del preparatore affetto. Quindi io ho vissuto un po', sono diciamo in questa generazione di mezzo che ha alle spalle un'improvvisazione quasi totale. Ricordo per esempio che quando giocavo io, noi il massaggiatore lo vedevamo il sabato nelle partite casalinghe, perché, ora faccio un nome che forse qualcuno potrebbe anche ricordare, perché Sandro Selvi è stato un massaggiatore storico della Nazionale Italiana di Calcio, nei filmati di Messico 70 lo si vede inquadrato accanto a Valcareggi e lo si vede in tanto. E lui veniva esclusivamente in qualità di amico di Gianni De Magistris e con questa, diciamo, entratura, ecco, lui veniva così a farci un regalo. Era un regalo vedere il massaggiatore il sabato nella partita casalinga, perché già poi quando andavamo in trasferta questa figura non c'era già più, la perdevamo. La stessa cosa appunto allargando un po' il discorso riguarda il preparatore atletico. Io devo dire che, non per meriti miei, ma sono senz'altro tra quelli che ha lottato per avere un medico affiancato alla squadra, un preparatore atletico affiancato alla squadra e un massaggiatore. Il massaggiatore anche qui, ecco, poteva essere quasi un apprendista, quasi l'amico dell'amico, fino a quando poi siamo riusciti, non senza sforzo, perché poi è uno sport come la pallannuoto, che tra l'altro forse qualche anno fa si era un pochino illuso non di arrivare a livelli, a vette professionistiche, ma insomma un certo salto era stato fatto. Poi recentemente, e con gli ultimi accadimenti ancora di più, tutto quasi è ritornato indietro con un salto nel tempo a ritroso. E quindi la figura di un massaggiatore, che però veniva regolarmente cercata tra i giovanissimi, tra chi si affacciava a questo mondo, e Nicola, Nicola, correggimi se sbaglio, ma è stato un po' pescato, quasi per caso, perché faceva aiuto bagnino o qualcosa del genere, correggimi Nicola, all'arenante Esprudenza. E allora poi, tramite la richiesta, ma verresti? Nemmeno da parte mia, a me fu proposto e andava sicuramente bene. Poi Nicola ha fatto una strada bellissima, è stato tanto con noi, però ecco, lui può testimoniare questa mancanza di professionalità, non di chi collaborava con noi, ma di una struttura societaria che quasi non prevedeva figure di questo tipo, se non appunto in maniera molto così casuale. E aggiungo anche che oggi, comunque, e faccio riferimento alla squadra più opulenta, più ricca, più vincente che c'è in Italia, alla ProDecco, dove c'è sicuramente il fisioterapista, ci sono sicuramente figure legate alla squadra, come il preparatore atletico, però nonostante tutto, e nonostante che ho preso come esempio Recco, perché so, ci sono stato tre anni, quindi so anche come funziona, dove, peraltro, magari si gettano letteralmente grandi risorse in maniera, a mio parere, anche avventata, senza logica, però si sta attenti magari ancora a risparmiare i 100 euro su questo tipo di figure. Ecco, questo è un po' l'inquadramento, ahimè, del nostro mondo. Questo è... Parlo, e faccio un'ultimissima aggiunta. Devo dire che c'è, e Klaus magari lo potrà testimoniare e confermare questo, c'è grande differenza, c'è una dichotomia forte tra i club, quindi tra le società e la nazionale, perché in federazione le cose funzionano ben diversamente. Esatto, sicuramente. Intanto, buona serata a tutti, anzi, grazie mille per l'invito. Anche a me fa veramente piacere, prima di tutto, rincontrare amici e persone che comunque non ho sempre occasione di vedere, e poi anche di intavolare un discorso comunque che mi ha sempre interessato storicamente in tutto il mio percorso agonistico. Infatti, mi ricollego un po' a quello che ha detto Riccardo, parlando di una generazione dopo forse della sua, no? Quindi io parlo della generazione che un po' ho vissuto da atleta, e anche lì siamo un po', siamo stati un po' sulle spalle di quelli che, come lui, hanno cercato di introdurre figure come quella che può essere quella di Incola, no? All'interno di uno sport strutturato come il nuoto per la prestazione massima. Quindi nel caso del palanuoto spesso va incontro alla facilità di farsi male, no? Quindi andare incontro agli infortuni, aiutare le persone a non infortunarci. Sul nuoto invece è un po' più orientato magari verso la parte di prestazione massima. Quindi noi siamo arrivati in un momento un po' più avanti, no? Quindi c'era già, si era già evoluta la necessità di avere una figura che potesse seguire l'atleta sull'aspetto fisico, su come stava, su come si sentiva, su come poteva migliorare l'aspetto fisico al di fuori dell'allenamento. Però era ancora la sensibilità molto bassa, secondo me, no? E quindi c'era questa mettiamo qualcuno a fare qualcosa, ma non sappiamo chi è e cosa fa. Ok, no? Quindi sì, c'era anche magari le risorse per poter fare, inserire figure che facevano delle cose, però non c'era una qualificazione precisa di queste figure che andavano a intervenire sugli atleti, no? Perché poi comincia, quando una persona interviene, comunque può portare sia delle cose positive che delle cose negative. Però chiaramente se non si riesce a qualificare correttamente le figure di cui c'è bisogno, l'utilità magari risulta, può venire meno, anzi fare anche delle cose che non vanno bene per l'atleta, no? Io, come ha detto anche Riccardo, anche io ho avuto la fortuna a un certo momento della mia carriera, che comunque quando ho conosciuto Nicola la mia carriera era già abbastanza sviluppata, no? Cioè ero già stato all'Olimpiedi, avevo già vinto un europeo, avevo anche avuto dei problemi, avevo avuto un'operazione alla spalla importante, quindi comunque non era la fase calante della carriera, però insomma non ero neanche nel momento più, diciamo, di crescita, no? Quindi diciamo un po' un momento un pochettino di stallo e passavo dall'aver conosciuto un sacco di situazioni con figure di preparatori atletici che poi si improvvisavano con i massaggiatori oppure osteopati che dicevano di essere osteopati ma magari, insomma, sapevano qualche nozione di osteopatia, insomma, quindi una situazione un po' confusa in cui spesso veniva buttata alla ribalta la persona che si era trovata un po' nel momento, no? In questa situazione un po' così confusa, a me che comunque è sempre interessato molto curare questo aspetto perché comunque anche per caratteristiche mie, insomma, sono molto alto, quindi sono un po' più tendente ad avere problematiche comunque articolari anche a fronte di uno sport abbastanza lavorante. Avere incontrato Nicola intorno al 2005 mi ha permesso di avere un percorso che mi ha portato all'età comunque di 28 anni, riuscire a avere ancora uno step ulteriore, non mantenere una certa qualità del lavoro, una certa qualità dei risultati anche, ma riuscire anche a avere qualcosa in più, cioè anche obiettivi che magari uno dice, beh, insomma, sei quasi arrivato a 30 anni nuotando, cos'è che ti aspetteresti ancora, no? Più o meno pensi di aver fatto il tuo, no? Invece, secondo me anche grazie comunque a questo percorso che poi sicuramente Nicola può dettagliare meglio nell'aspetto tecnico, io sicuramente gli posso dare una mano perché mi è sempre piaciuto sapere cosa faceva, no? Perché io sono sempre stato quello che quando facevamo i trattamenti chiedevo cosa serve questo, cosa serve quello, perché stiamo facendo questo percorso, perché mi era reso conto che partecipando e conoscendo quello che lui faceva mi sembrava comunque di riuscire a fare qualcosa di più efficace anche dopo averlo fatto, sapere come comportarmi in acqua, come comportarmi in palestra. Quindi sicuramente la fase che vi ho raccontato un pochettino brevemente è un'evoluzione di quella che ha raccontato Riccardo, però ancora secondo me non era ancora la vera formazione di quello che è la necessità di un atleta di altro livello. Ho trovato Nicola che ha risolto molte delle mie problematiche e mi ha fatto vedere cosa doveva essere quello che un atleta deve trovare. Però ho visto che questa caratteristica non è stata apprezzata in tutti gli ambienti in cui comunque ho potuto notare. La stessa nazionale, per quanto con risorse molto maggiori come stavamo discutendo, spesso le spende diciamo in maniera magari non precisa quanto potrebbe essere utile. Poi nel tempo comunque questo ho visto che si è comunque evoluto. Quindi sono fasi che pian piano hanno portato a avere comunque figure che possano veramente aiutare gli atleti. Nico, lasciamo un po' la parola a te a questo punto. Così ci racconterai quello che hai fatto con questi, prima di tutto con Klaus visto che ti ha elogiato nel lavoro che hai svolto insieme a lui e poi sicuramente anche quello che è stato il tuo ruolo da giovane perché poi faremo vedere magari se riesco a condividere qualche foto che abbiamo con la squadra insieme a Riccardo. Ti lascio la parola. Allora diciamo che sono proprio due momenti differenti della mia professionalità, quella che ho sviluppato proprio con Riccardo e quella con Klaus perché con Klaus siamo dal 2005 in poi quindi avevo finito già osteopatia da un paio d'anni e avevo tutta una serie di conoscenze che chiaramente con Riccardo ancora non avevo, era il 1996 Riccardo quando ci siamo conosciuti la prima volta. Avevo appena finito fisioterapia e come ha detto Riccardo stavo facendo il bagnino sotto lo stadio che c'è una piscina nella pausa pranzo, anzi stavo studiando fisioterapia nella parte finale e un suo giocatore che stava allenando la squadra dei bambini entrava sul bordo vasca, ci si salutava, un giorno vide i miei libri e mi disse ma cosa stai studiando? Nel parlare mi disse ma a noi ci servirebbe un fisioterapista, un massaggiatore, ma se avresti voglia ti metto in contatto con l'allenatore e io disse se vi fidate e la risposta fu se ci prendi poco va bene e in effetti andò così. Quando andai sul bordo vasca la prima volta mi ricordo ancora che mi dissero guarda è importante che oggi tu ci sia perché abbiamo un giocatore con un problema a una spalla, è stato il più grosso giocatore che io abbia mai visto in vita mia, è stato io finora, fino a quell'ora mi occupavo di qualche vecchietta sporadica in tirocinio, era un prosciutto di queste dimensioni ma non sto scherzando, una spalla proprio così, l'uomo più grosso che negli anni io abbia mai visto con i pallanotisti è stato lui. Poi vabbè insomma feci qualcosa, si sentì meglio e da lì è iniziata una collaborazione e i miei sei anni di osteopatia. Era complessivo. Eh sì 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 era proprio più enorme e Riccardo si ricorderà che io quando ero in trasferta con loro studiavo perché avevo da studiare osteopatia quindi io ero proprio davanti a Riccardo nel pullman e passavo le mie trasferte studiando e lavorando perché mi facevano anche lavorare durante i viaggi in pullman, massaggiavo, trattavo in pullman. Quindi lì c'è stata tutta una parte esperienziale di un certo tipo. Con Klaus a quel punto avevo già una certa esperienza ma soprattutto avevo una serie di conoscenze e questo mi aveva permesso di strutturare meglio il percorso. Quindi con Klaus abbiamo iniziato a vederci tutte le settimane, poi una volta ogni due settimane, programmato, fisso, c'era un suo appuntamento, lui veniva in studio e impostavamo un lavoro in relazione a quello che era la preparazione atletica e la fase di allenamento che lui stava vivendo e in quel momento io stavo facendo la formazione con Bousquet, decidemmo di provare a impostare tutto un lavoro posturale seguito insieme anche al preparatore atletico in prevenzione degli infortuni. Quindi andare a lavorare su tutte quelle restrizioni miofasciali soprattutto in relazione alla spalla sinistra che era stata operata per cercare di evitare che ci potessero essere infortuni. Klaus da brava persona beneta metodico preciso puntuale ha sempre fatto questo lavoro posturale poi non c'è stata una controprova però infortuni in realtà non ci sono state e durante le fasi di lavoro eh suo io impostavo il mio lavoro osteopatico cioè durante le fasi di carico di lavoro eh lui andava chiaramente in difficoltà era stanco eh ora sappiamo che si va in immunodeficienza e tutto il resto facevamo dei lavori eh sul sistema nervoso autonomo dei lavori più fasciali tra virgolette oggi li presenterei in un'altra maniera ancora però all'epoca era questo il discorso e invece quando ci avvicinavamo all'evento allora si iniziava a lavorare più sulla componente muscolare sulla componente scheletrica e facevamo un altro tipo di lavoro quindi ehm questo tipo di lavoro di impostazione in realtà provammo a farlo con Riccardo nel mio ultimo anno che era il 2003 eh quell'anno io smisi di fare il fisioterapista entrò in squadra un fisioterapista e io inizia a fare l'osteopata e e si imposta un lavoro di questo tipo che pensandoci adesso considerando il contesto attuale di questi sport era essere veramente all'avanguardia e cioè eh una cosa avanzatissima e anche quell'anno devo dire a parte se ne parlava con Riccardo un giocatore che aveva un problema di ernia del disco era un centro boa e comunque dopo due settimane era in acqua e uno che si ruppe un dito per un infortunio full full anno sarà stato in casa anche qui non c'è una controprova però non ci furono lesioni o problemi particolari o assenze durante la partita per infortuni. Posso aggiungere una cosa? Assolutamente. Vai vai. Guarda eh Nicola pensavo proprio a questo che andavi dicendo ora perché l'anno si era io poi da quando mi avete invitato sono andato a ricostruire un po' perché la memoria e quindi è vero era il 2002-2003 l'ultima stagione in pratica eh che tu hai fatto con noi e eh Pino Pino Sacchi che poi a sua volta è diventato osteopata giusto? Bravissimo strofa. Ecco è stato introdotto da te e credo che lì sia stato veramente fatto il massimo eh per quelle che potevano essere delle possibilità eh della società e del e del del tempo da dedicare da parte di tutti perché proprio perché eh Pino si occupava diciamo della parte di piano vasca e quindi quella più eh incentrata su quella che era l'esigenza del momento e tu avevi impostato invece un lavoro proprio proprio probabilmente quello che ha fatto con Klaus Lanzarini cioè un lavoro eh metodico e tra l'altro eh la 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 il problema dell'enna del disco a cui tu accennati di Raffaele e Onotetti era un qualche cosa che veniva da 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 prima era era già mi ricordo che era già precedente poi si riavizzò ma non era non fu qualche cosa successo durante durante l'anno era un problema preesistente e tra l'altro qui faccio proprio poi mi mi chiedo faccio una considerazione la volevamo buttare un po' in filosofia spicciola però ehm mi piace molto l'idea mi piace a questo tempo perché io ero completamente all'oscuro di quello che poteva essere l'osteopatia di quello che poteva essere un percorso di questo tipo ma in quello che viene definito per antonomasia lo sport completo per eccellenza quindi il nuoto e di conseguenza anche la palla nuoto per certi aspetti anche se poi ovviamente nei decenni tutti gli altri sport eh con insomma con l'interdisciplinarità si sono dati una eh un'immagine non solo non un'immagine ma una una struttura ben diversa prima eh si lavorava magari molto più concentratamente eh su alcune parti del corpo quindi il nuoto che per eccellenza è lo sport eh più completo o quantomeno eh per 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 detto ecco sì secondo me appunto si eh confà benissimo con quella che è con quelli che sono i principi dell'osteopatia che se mi insegnate sono principi che eh hanno a che fare con il tutt'uno con l'unità del corpo con con il non scindere eh una parte rispetto all'altra anche quando si vanno a trattare degli infortuni localizzati quindi questo questa cosa mi sembra che possa stare insieme molto bene e ecco mi sono lasciato andare anche a questa eh a questa considerazione a questa considerazione ma è una chiacchierata guarda come ti dicevo proprio l'altro giorno è proprio una chiacchierata anche perché vengono fuori degli argomenti in realtà molto interessanti no eh l'altro giorno parlavamo anche eh su la a proposito di di questa interdisciplinarietà a proposito di eh del fatto che eh di come si sia anche evoluto lo sport non solo dal punto di vista eh diciamo così fisico no come dicevi tu prima che mentre prima anche pensiamo alla preparazione eh atletica eh aveva aveva magari delle era molto più improntato su gesti tecnici ripetuti piuttosto che una preparazione più specifica su un singolo distretto oggi ha ha proprio preso una piega molto differente e se noi andiamo a leggere i lavori scientifici di oggi spesso si parla anche di eh preparazione atletica specifica a specifica che comprende più sistemi abbiamo nei corsi insieme a Nicola abbiamo visto per esempio la variabilità della frequenza cardiaca come è importante aumentarla per migliorare tutta la prestazione in ogni sport per cui eh chiaramente si stanno verificando si stanno facendo tantissimi studi anche a supporto di eh in ambito sportivo a supporto di quelli che possono essere i migliori metodi di allenamento specifici e non e la stessa cosa vale anche per la nostra eh per la nostra materia per la nostra disciplina e Nicola penso che tu possa confermarlo no? Sì ecco il problema pratico che io vedo in tutto questo è uno io mi sono trovato in un contesto come diceva Riccardo in cui la palla nuoto stava crescendo poteva diventare qualcosa di più poi avuto una regressione e c'era una tendenza anche a volere comunque investire e provare delle cose nuove eh con Klaus mi sono trovato in un contesto in una società che pagava per trattare loro intanto non so se vedete questa questa fotografia visto che parlavamo prima e riesco a condividerli qua la vedete eh vedete tutti un Nicola Barsotti giovane in rosso molto piccolo rispetto ai suoi ai suoi atleti da da trattare ecco è quello sì sì poi forse sono accanto a tempesti che è più alto di tutti quindi eh io non sono cioè sono normale sono un 80 però in mezzo a quella squadra eh è un nano eh mediamente mediamente è un nano quel aspetta dov'è che è? Ecco quello che vedete in basso al centro accosciato eh lui che diciamo proprio il più basso di tutti diciamo che si trova al centro che è stato capitano della nazionale russa lui era alto come me era un e ottanta era largo anche un e ottanta era un cubo che camminava sul bordo vasca ecco si spostava sul bordo vasca ehm ecco devo dire questo che io ho beccato ho avuto la fortuna di beccare un contesto particolare cioè ho avuto delle società che hanno avuto voglia di investire perché sono sport tendenzialmente poveri cioè ehm gli atleti non è che investono dei soldi per poter avere qualcuno che ti possa seguire in un certo modo e eh per i giovani e può essere può essere la famiglia a pagarti alcune sedute se è un problema se è un infortunio ma non riesce a seguire un programma organizzato in prevenzione di impostazione insieme al preparatore atletico insieme all'allenatore e poi il la figura centrale di tutto questo io continuo a dire sempre che è l'allenatore che l'allenatore deve essere quello al centro che coordina tutto quanto e che 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 sa che cosa sta accadendo in ogni settore poi del della squadra sia che siano poi atleti che lavorano che gioca che che hanno attività individuali come nuotatori sia in ambito di di gruppo oggi siamo in una situazione di grossa crisi per cui per quello che è la mia esperienza su Firenze quello che era la figura del massaggiatore è tornato un dilettante sostanzialmente è difficile eh che ci sia una figura di riferimento pagata dalla società e che abbia anche delle competenze di un certo tipo per poter impostare certi tipi di lavoro con gli atleti eh questo io insomma non so adesso la vostra esperienza però la mia è un po' questa non è che sto vedendo molte eh molta attenzione negli sport appunto un po' più poveri bisogna salire su sport di alto livello allora dove girano tanti soldi lì non sempre c'è l'osteopata il fisioterapista può anche essere osteopata lì diventa delicato un aspetto perché se sei osteopata e fisioterapista puoi svolgere tranquillamente tutti i due compiti ma se sei osteopata e c'è un fisioterapista che fa il fisioterapista devi muoverti molto bene perché gli infortuni e il recupero sono tutti di mano del fisioterapista cioè l'osteopata fa l'osteopata lavora sulla preparazione lavora sulla sulla prevenzione degli infortuni dà una mano al recupero dà una mano nel recupero post gara dà una mano nel recupero eh cioè nella preparazione pre gara ma molto deve essere fatto dal fisioterapista se no lì si peste piedi ad altri e si entra in un contesto brutto e antipatico c'è il medico che come con Riccardo in alcuni casi abbiamo fatto cioè infiltrazione ai giocatori per farli giocare eh non è che lì l'osteopata può dire no aspetta ti sistemo ti faccio devono fare delle prestazioni di alto livello con degli sforzi fisici importanti si infiltrano poi ci pensiamo dopo a come a come rimetterli in piedi a come recuperarli ecco lì l'osteopata in questi casi deve stare un po' più attento perché può pestare i piedi a figure fondamentali e quindi a essere cacciato ci vuole un secondo esatto quello che si diceva un po' anche prima no cioè avere a che fare in un team professionistico è sicuramente una cosa che va un po' eh al di fuori di quella che può essere la semplice competenza ma quello che fa tanto soprattutto nell'avere a che fare con un team è proprio sapersi approcciare anche sapersi inserire anche nel contesto senza però per così dire eh passatemi il termine senza pisciar fuori dal vaso no perché è molto semplice cadere in queste trappole che possono andare anche oltre a quelle che sono le le competenze specifiche ma semplicemente sono i rapporti che si vengono a creare anche con gli stessi atleti uno dei degli argomenti che eh abbiamo nella nostra scaletta è proprio il rapporto tra il l'atleta e il fisioterapista o l'osteopata in generale quello che gli mette le mani addosso per sistemarlo no che è quello un po' del confessore penso che si possa dire qualcosa a proposito no? Allora io ti dico due cose poi chiaramente te le diranno anche Riccardo come allenatore e Klaus invece come atleta allora il l'esperienza meravigliosa che io mi son fatto con la rarinante esflorenza di palla a nuoto eh è stata estremamente faticosa anche se ero giovancio vincello l'ho supportato bene tutto oggi avrei difficoltà perché Riccardo si ricorderà bene venivano in camera mia si attaccavano alla playstation alla mia televisione io aprivo il lettino e praticamente mentre loro giocavano alla playstation ogni tanto capitava anche a me di giocare insieme a loro io lavoravo fino all'uno e mezzo di notte perché poi c'erano quelli giovani nottambuli che erano abituati ad andare a letto tardissimo poi la mattina arrivavano quelli che avevano famiglia e che erano abituati a svegliarsi presto e alle otto ti bussavano alla porta ora se consideri che magari il fine settimana avevi la partita a metà settimana partivi con l'aereo e andavi a fare la partita di coppa poi ritornavi c'era un'altra partita insomma c'erano dei periodi molto intensi da questo punto di vista eh era stancante però in quei contesti ecco è fondamentale che chi fa la nostra professione riesca a rimanere scisso cioè te non devi essere amico dei giocatori se sei lì a fare un certo tipo di professione e capita che poi se l'atleta si trova da solo si apra con te ti racconti le sue difficoltà le incazzature magari con l'allenatore perché non lo fa giocare perché in quel momento non lo vede bene oppure ha un infortunio ha paura di non poter giocare di non essere all'altezza per quella partita importante sono tutte cose che te ti devi prendere devi ascoltare senza neanche giudicare senza neanche fare niente sei il loro confessore cioè c'è niente da fare a maggior ragione ad esempio con Klaus che fa degli sport individuali la componente oggi diremmo interocettiva no di ascolto di percezione di di delle sensazioni se te senti un nuotatore a fine di una gara o uno che fa atletica leggera ti dice mi sono sentito così le sensazioni erano queste e quest'altro pallonotista non te lo dice pallonotista fa delle cose pazzesche perché sente l'allenatore che ti chiama uno schema guarda i giocatori i tuoi compagni che si dispongono in un modo gli avversari che conoscono il tuo schema e cercano di mettersi in un altro modo magari stai facendo la lotta con un altro e per tirare le botte guardi anche gli arbitri l'attenzione su di te la senti dopo ecco quando è finita la partita ti rendi conto che ti sei fatto male il nuotatore se ne rende conto prima Klaus Klaus dici qualcosa no no sicuramente infatti la cosa bella di quel periodo secondo me è stata intanto l'estemporaneità un po' anche della figura di Nicola no perché comunque una squadra per quanto di un certo livello difficilmente poteva permettersi di avere tante figure no coprire le esigenze degli atleti quindi pensare di avere un fisioterapista era già tanto pensare di avere un osteopata per me era quando la prima volta che comunque ho visto Nicola sembrava quasi fantascienza no nel senso e oltretutto eh vederlo che comunque alla fine si dove aggiustare un po' tutti gli aspetti perché comunque non è che aveva la controparte fisioterapista no lui la copriva perché comunque le sue caratteristiche gli permettono di farlo però era un po' un muro che cercava di assorbire tutte le esigenze degli atleti e come dice lui spesso c'era anche questo questo bisogno di comunque rapportarsi parlare dei propri problemi e anche portare sul tavolo anche quello che è le difficoltà dell'atleta non ce la faccio a fare allenamento sono in difficoltà e anche a volte succede pure che poi sia l'osteopata barra fisioterapista stesso che diventi il portavoce stesso dell'atleta verso l'allenatore per permettergli di tarare giustamente il lavoro su quello che fa l'atleta perché a volte l'allenatore ha una percezione con un muro no vede l'atleta o come quello indistruttibile o quello che si lamenta sempre ok quindi staccarsi da queste due figure a volte è difficile per l'allenatore ma proprio perché il suo ruolo è un ruolo che deve portarlo oltre a quello che farebbe l'atleta quindi in questa diciamo dicotomia tra le esigenze dell'atleta e la volontà dell'allenatore e quello che entrambi tendono cioè comunque la prestazione massima la figura di Nicola secondo me era importante perché portava proprio le esigenze del fisico dell'atleta che magari aveva delle difficoltà aveva bisogno di recuperi più lunghi aveva bisogno di fare un lavoro diverso no quindi questa secondo me è stata la cosa molto bella che io ho notato in quel periodo in cui non sono stato seguito a Nicola e un'altra cosa che ho notato è che cioè lui una cosa particolare è che Nicola seguiva tutti quanti no cioè tutti gli atleti di tutti i livelli diciamo della squadra quella squadra chiaramente una squadra già persone di tutti i livelli quello più professionale quello che che va benino quello che va agli italiani quello che non va agli italiani però Nicola indistintamente segueva praticamente tutti e la cosa carina cioè proprio c'è divertente per me che comunque ero già arrivato a una certa età vedevo le cose in modo magari diverso era che anche alcuni degli atleti magari nemmeno si rendevano conto del vantaggio che poteva essere avere una figura del genere sullo staff di una squadra e lo davano quasi non direi per scontato a volte no però non 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 tirando fuori da questa possibilità al massimo e poi quello che succedeva secondo me è che spesso quelli che la vedevano in questo modo erano quelli che veramente avevano meno efficienza da quello che veniva fatto anche se l'impegno di Nicola era totale verso tutti quindi secondo me anche il fatto di entrare in una certa sintonia con la persona che ti tratta che comunque fa ti fa la terapia o comunque ti segue sotto l'aspetto osteopatico a mia opinione comunque c'ha c'ha una sua rilevanza poi anche sull'efficacia di quello che viene fatto poi magari qua Nicola sicuramente c'è avrà un sacco di biografia sul tema sono sicuro io sono andato a sensibilità mia nel vedere questa questa cosa rispetto a come erano i risultati rispetto a comunque impegno della dell'osteopata comunque uguale per tutti. No una delle cose belle vissute con Klaus è stata che quando lui è arrivato era come ha detto in una fase un po' discendente della sua carriera rischiava di uscire dalla nazionale di uscire dalle fiamme gialle eh quindi di finire praticamente la sua carriera quell'anno lui vinse i campionati italiani i i cento e duecento stile libero poi tra l'altro battendo Magnini Rosolino cioè battendo personaggi importanti ecco vederlo che saliva sulla corsia braccia alzate e che in diretta nazionale posso dirlo no tirò un bestemmione della Madonna per scaricare tutta la tensione che aveva e diventa un momento di gioia di esaltazione anche per te che sei stata a fianco e hai vissuto tutte queste difficoltà no dell'atleta. Guarda a tal proposito provo a condividere questa foto guarda dovrebbe non credo non so se è questa è la quella perché forse questa qui è una è una foto questa è infatti infatti comunque mai ricordi lo stesso. Sicuro? Grazie va bene va bene allora io volevo volevo chiederti una cosa invece Klaus aspetta che devo interrompere la condivisione volevo chiederti una cosa perché so che adesso ti sei dedicato ad un'altra attività sportiva non più da da professionista no? e che è la pallacanestro e esuro un po' da quello che è il tema di stasera che è più legato agli sport acquatici però volevo proprio chiederti una quella che può essere la tua sensazione di una grande differenza che era sicuramente in relazione al fatto che lo sport che facevi prima chiaramente era in totale assenza di gravità grazie al galleggiamento no? mentre adesso giocando a pallacanestro perché di questo stiamo parlando è cambiato tutto perché prima c'era un aspetto interocettivo che era quello di cui parlava Nicola prima molto importante in cui l'attenzione era focalizzata prevalentemente su quello che era per te stesso interiore per la tua prestazione rispetto invece a giocare a pallacanestro dove possono esserci altri tipi di infortuni ma dove c'è una grossa componente invece intorno a te a cui badare no? quindi volevo capire per te che comunque era un fortissimo agonista la tua percezione, la tua sensazione, come è cambiata la cosa, la preparazione e anche l'approccio eventualmente che Nicola utilizza con te infatti è stato interessante questo cambiamento perché insomma dopo una vita in acqua diciamo intorno al 2010 mi sono buttato su una vecchia passione da ragazzo mi è sempre piaciuto il basket quindi ho detto ma proviamo a fare questo esperimento quindi mi sono spostato più verso la palla non ancora in acqua come Riccardo ma comunque una palla e uno sport come dicevi tu di squadra quindi completamente ribaltato tutto non c'era la gravità quindi primi periodi chiaramente muoversi in campo come sembrare quasi una persona che non aveva mai camminato perché comunque io ero talmente ottimizzato per il nuoto che io o nuotavo o comunque mi riposavo nella vita di tutti i giorni perché purtroppo l'atleta professionista al di fuori delle 6-8 ore che si allena meno fa, l'atleta professionista di nuoto meno fa al di fuori dell'acqua meglio comunque dopo è integrato nel resto delle giornate, dei mesi eccetera tant'è che poi anche d'estate noi restavamo fermi 10-12 giorni non di più no quindi in un anno provate a immaginare di stare fuori dall'acqua 10 giorni, 15 giorni quindi passare da una situazione del genere che era comunque immerso completamente in acqua con gravità completamente avulsa a quello che è l'umano perché l'umano non è fatto per l'acqua a tutti gli effetti passare a uno sport che è completamente terrestre con contatti continui, salti, corse e poi soprattutto come dici tu l'attenzione è sempre rivolta all'esterno perché a quel punto non puoi più guardare solo dentro di te vedere la tua fatica vedere dove puoi arrivare ma devi guardare la fatica dei compagni guardare dove sono i compagni, dove sono gli avversari cioè questo all'inizio è stato molto difficile devo dire che comunque il passaggio sicuramente Nicola l'ha visto bene perché comunque i primi periodi sono stati abbastanza drammatici perché chiaramente caviglie che saltavano subito i primi mesi subito le caviglie chiaramente si sono fatti il loro giro di essere state prima una poi l'altra giustamente poi pian piano però anche lì abbiamo fatto un percorso completamente diverso anche osteopatico di come sono stato seguito perché a quel punto non era più l'ottimizzazione della prestazione ma la prevenzione dell'infortunio e anche la preparazione del corpo ha comunque un'attività che comunque poteva sempre essere comunque di scontro eccetera quindi probabilmente immagino adesso non conosco bene i trattamenti per la pallanuoto però probabilmente si avvicinavano anche abbastanza a quello che poteva aver fatto anche con i ragazzi della pallanuoto con i ragazzi di Coriccardo con i ragazzi delle squadre insomma perché comunque secondo me poteva avvicinarsi abbastanza quindi diciamo dopo il periodo di comunque avvicinamento iniziale è un po' complicato ma dopo una vita in acqua è normale che lo sia devo dire che sono riuscito a trovare finalmente anche l'equilibrio sia muscolare che comunque anche in prevenzione con tanti anche esercizi mi ricordo che comunque anche i primi periodi che andavo a basket arrivavo sempre un'ora prima degli altri per fare esercizi cioè io stavo un'ora a fare esercizi per essere pronto perché io per me correre era una cosa che non c'entrava niente con me poi chiaramente tutto va tarato anche sul livello in cui fai le cose perché il nuoto l'ho fatto al livello massimo che si possa fare perché insomma per dieci anni nazionale comunque è sempre stato a quel livello lì che è il massimo che si può fare chiaramente nel basket io sono arrivato alle soglie della Serie D quindi comunque un livello totalmente diverso però dopo il percorso un percorso del genere decennale uno è anche piacevole vedere che si riesce a fare anche qualcos'altro nella vita oltre che stare immersi in acqua a guardare la riga sul fondo guarda ti dico una cosa Matteo intanto ringrazio Klaus che ha distrutto diversi compagni Klaus è gigante rispetto al livello a cui giocava gli altri erano tutti piccolini e quindi me ne ha rotti diversi e li inviava poi da me quindi questa cosa però è molto più traumatico e si avvicina molto di più come tipo di lavoro quello fatto con la palla a nuoto io all'epoca veramente stavo studiando osteopatia tantissime cose ancora non le conoscevo però ricordo bene la fatica nel periodo dei playoff ti ricordi Ricca quando si faceva le partite tre volte a settimana con a parte la stanchezza fisica perché questi facevano veramente tre partite a settimana di intensità pazzesca ma poi i traumi gli infortuni costole rotte te cercavi di lavorare per cercare di rimetterli in sesto fisicamente e di aiutarli un po' anche mentalmente a rilassarsi perché questo era l'altro grosso problema cioè a un certo punto subentrava una stanchezza mentale anche alta no? cioè io mi ricordo ecco in quei momenti lì la confidenza diventava veramente un momento di per loro anche di recupero e in questo devo dire ecco io ho avuto il piacere di lavorare con Riccardo in questo che è sempre stato molto attento preciso e puntuale cosa che da quanto ho avuto modo di sentire da altri allenatori insomma altri allenatori non sono mai stati come Riccardo poi non so a cosa ti riferisci esattamente però io ho sempre diciamo adottato un sistema che forse poi non è nemmeno stato quello che mi ha portato così fortuna però io ho trattato i giocatori e le squadre prima di tutto come uomini come persone quindi non imponendo e cercando di capire essendo forse tutto sommato rimasto molto giocatore nella mia testa nel mio modo di fare cercando di capirne le necessità i bisogni e anche quello a cui tu facevi riferimento prima cioè la stanza del fisioterapista soprattutto cioè quando poi siamo in trasferta in realtà perché quando sei a casa è già diverso ma è veramente forse il cuore della squadra a parte Nicola ora non è che siamo più a farsi complimenti non è questa la sede però devo dire che poi ripensando anche questa questa chiacchierata me ne dà un ulteriore modo e testimonianza questo è stato bravo perché comunque eri giovane non eri ancora formato probabilmente nella maniera più completa anche se con gli anni via via questa cosa e sei riuscito comunque a fare ottimamente il tuo valore il tuo lavoro ad avere rispetto dei ragazzi perché ti sei fatto rispettare perché tante volte non sei stato nemmeno così tenero e questo è torno a quello che diceva lui prima quindi il fisioterapista il massaggiatore l'osteopata ora la figura di riferimento che mette in compartecipazione con la squadra la sua stanza e quindi ci si può trovare a giocare alla Playstation qualcuno magari anche a fumarsi la sigaretta e tutti quanti lo si sapeva ma insomma io è una delle cose che per esempio forse sbagliando ma ho lasciato andare pur sapendo pur sapendo però non hanno mai con te credo prevaricato quelli che fossero i ruoli e tutti si è fatto rispettare in questa in questa veste di confidente quando era il momento ma anche di saper mettere certe certe regole mi ricordo anche a certi litigati anche sul pullman perché nei momenti meno opportuni ti veniva richiesta la prestazione anche quando non non era assolutamente il caso perché poi i giocatori insomma l'atleta per statuto magari lo deve anche essere ma insomma è un animaletto pericoloso insomma bisogna stare attenti però ecco questo insomma io credo che tornando a quello che dicevi prima diventa davvero davvero un ruolo un ruolo che gioca una partita fondamentale all'interno di un gruppo della squadra lavorare con gli atleti almeno per quello che è la mia esperienza io lavoro tanto con atleti ho lavorato tanto con atleti judoka perché io da sempre pratico judo faccio adesso molto meno sono stato un atleta di medio livello insomma però comunque seguo una bella squadra e tendenzialmente ma questo lo vedo in tutte le discipline sportive che sia in questo caso il judo ma anche altri atleti e oggi tanti atleti anche diciamo in età adulta che si approcciano anche ad altre attività sportive parlo per esempio della corso del ciclismo che macinano un sacco di ore ma tantissime ore e l'atleta come dicevi te è un po' bastardo nel senso che pretende innanzitutto la massima prestazione pretende di guarire più velocemente possibile per ritornare a fare quello che faceva prima e questo lo si verifica anche in atleti appunto in altre situazioni in altre situazioni come per esempio l'ex atleta o comunque la persona che ha 50 anni 60 anni si mette a correre e si spara 15 chilometri di corsa al giorno senza riposo e come diceva Klaus una delle cose fondamentali per l'atleta è il recupero il riposo e spesso spesso ci sono condizioni in cui gli atleti vanno in una condizione che va assolutamente evitata che è l'overtraining cioè questi vanno a esagerare e poi c'è un calo di tutte le prestazioni perché a livello neurovegetativo poi si sviluppa tutto un un casino che non finisce più ci vuole la supercompensazione non si verifica non si verifica quindi si ha comunque un crollo sia delle prestazioni ma poi anche a livello proprio psicofisico con situazioni anche di depressione di impossibilità di recuperare e questo è per esempio è nella mi faccio autopubblicità nel corso osteopatia in ambito sportivo parlo di questo parlo di come prevenirlo e come valutarlo soprattutto ci sono oggi mezzi per poterlo fare con Nicola Nicola lo sa benissimo perché abbiamo utilizziamo un'apparecchiatura una macchina che è il PPG che è attraverso la variabilità della frequenza cardiaca si può appunto fare una cosa che è proprio la prevenzione di questi stati che probabilmente all'epoca si poteva fare magari in altri modi però è comunque una situazione a cui bisogna stare molto attenti e come diceva Klaus lui riposava nel momento in cui non si allenava quindi ti chiederei a questo punto Riccardo qual era la tua la tua pretesa cioè la tua esigenza più che pretesa come allenatore da parte del fisioterapista o dell'osteopata o comunque della figura di riferimento in questo caso no? Qual era la tua maggiore esigenza? Ma intanto che non facessi troppe cazzate come? che non facessi troppe cazzate già non è poco eh già non è poco perché sì sì no ma Nicola non ne ha fatte no come dicevo si diceva all'inizio della della chiacchierata io sono probabilmente di quella generazione che ha lottato per avere per avere delle figure accanto accanto a me accanto alla squadra e quindi la necessità era quella intanto di avercela perché non era così scontata poi il problema che si verificava che poi quindi diventava anche una necessità un'esigenza di gestione di questa figura perché la prima il primo problema era averla nel momento in cui ce l'avevi dovevi imparare cioè dovevi gestirla in qualche maniera perché poi come ora si sta dipingendo gli atleti come degli esseri sprecevoli ma perché poi c'è la c'è la convinzione o comunque che il fisioterapista debba essere a tua disposizione sempre non è così ora faccio un altro esempio che per come accennava Nicola ci sono stati momenti anche di grande lavoro sia perché si entrava nella parte complicata e difficile della stagione dove fra l'altro giochi a ritmi anche più serrati e giochi le partite più importanti se soprattutto giochi per livelli di un certo e magari c'erano esigenze di dover intervenire su tre quattro cinque atleti la figura di riferimento era una quando proprio colava grasso come è successo in alcune forse un anno o due abbiamo potuto contare anche su due persone e quindi c'era il problema di come fissarli i momenti come fissare i momenti per farsi curare per farsi seguire e quindi c'era la lotta ad avere ad accaparrarsi gli ultimi venti minuti utili prima dell'allenamento e già chi doveva venire prima stava meglio perché rischiava di non perché magari Nicola o chi per lui poteva essere anche disponibile a venire in piscina un'ora un'ora e mezzo prima dell'allenamento però ci doveva essere una scalettatura di di priorità e quindi di atleti che dovevano aspettare il loro turno e quindi la necessità poi diventava anche quella di gestirla la figura è chiaro che poi è fin troppo banale dire che quello che a tutti chiedevamo a Nicola nel suo caso comunque a tutti quello che si chiede al fisioterapista è quello di poter quasi fare il miracolo risolvere il problema c'è una notazione che appunto è venuta emersa prima anche dalle parole di Nicola di Schaus il notatore che comunque si allena e fa un gesto ripetuto lo sente anche insorgere la problematica se soprattutto riesce a conoscere un po' meglio se stesso se ha esperienza la riesce quasi a prevenire la problematica che sta insorgendo nella pallannuoto spesso la problematica non è preventivabile perché è frutto di un trauma è frutto di un qualche cosa che succede all'improvviso che magari due minuti prima non c'era e quindi poi l'altra necessità che si poneva è quella di avere la figura di riferimento lì pronta quindi non solo a risolverti il problema ma anche essere lì pronta a risolverti in quel momento stesso non è non è non è non è stato facile però secondo me in quegli anni con imparando avendo un certo direi tra le parti un certo buon senso che credo sia emerso è stata espressione anche dei risultati della squadra lo ritengo siamo riusciti a lavorare in maniera probabilmente non ottimale ma molto positiva sì io ho in mente due cose due tipi mi ricordo due scene allora uno con vabbè ero negli spogliatoi post gara con un dente in mano di un giocatore ho detto no ti è me lo in mano mi cambio poi vado dal dentista guardo se riesce a rinfilarmelo dentro io non giro questo dente in mano col nuotatore non capita questa cosa oppure un altro che giocava con due coste rotte prima i due tempi li aveva retti il terzo e il quarto poverino non ce la faceva più c'era il ghiaccio fisso sul costato quando poi siamo andati negli spogliatoi si è estraiato sul lettino e mi diceva Nico ti è mia mano ma chiamo l'ambulanza no no ti è mia mano finché stavo lì tenevo la mano ma chiamo qualcuno chiamo il meglio no no ti ti è mia mano non mi fai parlare e sono stato lì mi ricordo 40 minuti a tenere di la mano e poi dopo il piano piano si è rialzato e hai dato una mano a vestirsi però ecco sono aneddoti che fanno parte di questo gioco chi vuole chi vuole avere a che fare con lo sportivo è così lo spogliatoio lo spogliatoio fa parte del gioco anzi se si viene a creare un bello spogliatoio è anche più più bello interagire con gli atleti bene io secondo me abbiamo un po' parlato di tutti gli argomenti che dovevamo toccare no se volete posso dire una cosa oggi con le mie conoscenze attuali avessimo avuto con Riccardo e con Klaus la misurazione della variabilità della frequenza cardiaca sarebbe stato fantastico perché è uno strumento che non solo sull'overtraining ma anche per calibrare bene anche noi operatori osteopati come andare a lavorare sull'atleta sarebbe stato in 5 minuti immediato per impostare un piano di lavoro e con le conoscenze attuali nel post gara avrei fatto una quantità di drenaggi linfatici pazzeschi guarda questo è è una cosa che mi capita di notare e proprio recentemente tra l'altro ho avuto ti dico questa cosa visto che stiamo parlando proprio di ambito sportivo e di trattamenti recentemente ho avuto modo di trattare un ragazzo un paratleta ok uno che insomma era ha ha rischiato di farsi un'olimpiade non l'ha non l'ha fatta perché poi è saltata la sua categoria perché con il problema è che le parolimpiadi hanno hanno delle delle problematiche in relazione anche al numero di scritti alla stessa categoria mi ha spiegato un po' adesso non so bene come funzioni fatto sta che era un grande atleta e con lui stiamo facendo un lavoro proprio di monitoraggio della variabilità della frequenza cardiaca e spesso si parlava prima con Riccardo per esempio della figura del massaggiatore a volte l'osteopata attraverso delle tecniche non puramente osteopatiche ma sappiamo che tanti che fanno gli osteopati sono massaggiatori questo va detto le tecniche di massaggio muscolare drenante come dici tu sono molto molto efficaci sulla variabilità della frequenza cardiaca addirittura cambia in maniera molto molto rapida ma non solo si mantiene perché attraverso il drenaggio chiaramente abbiamo poi un'azione secondaria anche a livello immunitario quindi tutti i sistemi hanno un'ottima risposta direi direi che che possiamo chiudere la serata Matteo visto che ce l'hai fai vedere che sono stato giovane anche io la mettiamo sicuramente aspetta guarda io mi vedo mi vedo in questo video la vado a prendere guarda la prendo subito facciamola vedere facciamola vedere da atleta qui io prendo quella dell'atleta dai un po' di megalomania allora voglio anche la mia con la coppa assolutamente vedete guarda qua che atleta guarda qua che atleta era forte Riccardo è stato un grande pallanotista guarda che atleta e adesso guarda adesso vado anche a recuperare quell'altra aspetta che è dell'87 europeo di strasburgo fammi vedere se è questa qui fammi vedere se dovrebbe essere questa qua fammi un po' eccola qua guarda che l'ho trovata te la condivido guarda guardala qui eccola qua guarda io con la coppa sì sì questa qui con la vittoria di coppa delle coppe tuffo in piscina non so che vestiti avevo in quel momento addosso non erano i miei sicuri stai bevendo? sì stavo bevendo l'acqua della piscina stavi bevendo eh esatto non si sa bene bene nel frattempo condivido lo schermo in cui vi farò vedere come accedere al sito FOB per visualizzare il corso nel frattempo se qualcuno vuole interagire faccia pure io posso fare le domande posso fare le domande sì ok allora qui nella pagina andando su corsi vi illustro questa cosa c'è questo che è differente perché è un corso online rispetto agli altri che sono in presenza e all'interno della pagina si può andare a visualizzare il programma c'è un video di presentazione e il programma è suddiviso in tre moduli che sono l'ambito strutturale l'ambito neurovegetativo in cui si parla appunto di avvariabilità della frequenza cardiaca e l'ambito nutrizionale in cui si parla sia di nutrizione che di integrazione alimentare questo chiaramente per avere delle nozioni di base per per l'osteopata chiaramente non andando a improvvisarsi nutrizionisti o andando a consigliare in maniera assoluta degli integratori ma riporto perché questo corso è tenuto da me riporto quelli che sono gli attuali ricerche in questo ambito e come fare per interagire appunto in un contesto multidisciplinare approcciandosi anche alle altre figure benissimo c'è una domanda però c'è una domanda hanno fatto una domanda ah scusate ma ci ho messo un attimo prego prego ci mancherebbe ma non l'ho l'appeto scusate ma ci ho messo un attimo a come funzionasse il zoom alcuni atleti che essendo atleti a livello a livello ecco grazie grazie ricca nazionale diciamo hanno sempre a portata di polso il WUP ma quello che ho capito in post gara a periodo di allenamento intenso dove magari l'HRV è al limite minimo consigliate drenaggi linfati eccetera o HVLA rispondo vai vai allora in quel momento lì io personalmente quando il neurovegetativo è basso se è sotto carico molto tutto ingolfato andrei di drenaggio linfati ma farei molti lavori sul sistema nervoso autonomo perché lì ecco qui c'è una cosa secondo me fondamentale oggi sappiamo che lavorando sul neurovegetativo si ha un effetto sul sistema immunitario quindi si sostiene l'atleta durante una fase di immunodeficienza perché sotto stress si è ampiamente visto e dimostrato che va in immunodeficienza e lo stress fisico da allenamento porta proprio questo quindi gli atleti cosa fanno in quel momento si ammalano si ammalano con molta più frequenza quindi stando a casa rallentano la loro diciamo così quello che è l'allenamento secondo me lavorare in prevenzione non vuol dire far migliorare le prestazioni agli atleti l'osteopata non ha questo potere l'atleta va più forte o migliora le sue prestazioni se si allena il lavoro in prevenzione deve permettere all'atleta di mantenere l'allenamento meno giorni salta e meglio è quindi in fase di immunodeficienza quindi secondo se l'HRV è al minimo la variabilità della frequenza cardiaca è al minimo sia in immunodeficienza bisogna sostenere l'organismo e quindi approcci di riequilibrio neurovegetativo di drenaggio linfatico per chi agiscono sul sistema immunitario secondo me sono quelli in assoluto da preferire in questa fase HVLA in questo contesto secondo me non cambia assolutamente nulla l'atleta può stare meglio lì per lì con la frazione di secondo ma se è stanco è stanco e non è l'HVLA come tecnica che ti fa ridurre il livello di stanchezza tutto lì spero di aver risposto ecco questo nella fase nel post gara ecco nel post gara si farei tanto drenaggio linfatico perché c'è un grande accumulo di acido lattico tanto acido lattico sia nel pallanotista che nel nuotatore per la mia esperienza il nuotatore tanto perché spara tutto in pochi secondi quindi dopo se poi la gara la fa la mattina va in finale a una gara al pomeriggio una semifinale al pomeriggio deve recuperare al meglio quindi in quel momento lì te gli dai una mano a cercare di drenare il più possibile per smaltire tutti quelli che sono gli effetti dello sforzo della gara e della prestazione la sera se ti capita di essere in albergo e di lavorare anche in quel contesto gli puoi fare qualche cosa che tende a rilassarlo era una cosa che si faceva anche con Riccardo con gli atleti della palla nuoto in un modo differente perché lavorava proprio in un modo differente ancora però Riccardo si ricorderà perché me lo raccontò che prima che arrivassi io una volta arrivò un massaggiatore storico di Firenze di questi massaggiatori insomma che non si sa se erano massaggiatori o non massaggiatori fecero training autogeno prima di una partita e prima ecco la partita la recuperarono se non sbaglio alla fine o all'ultimo tempo mi dicevi dormivate tutti ecco deve essere contestualizzato prima di una gara si attiva il corpo e lo si deve attivare anche bene sì sì assolutamente lì bisogna dare una bella stimolo ortosimpatico e e metterli su pronti per partire ecco per esempio una cosa che è sul pronti per partire quello è un lavoro che dovrebbe essere svolto molto bene dal preparatore io guarda ho una una grande esperienza di un preparatore con delle squadre di basket che è mio fratello perché mio fratello ha fatto per un periodo un preparatore atletico della di una squadra di basket di reggio emilia e lui arrivava dall'esperienza del del judo perché anche lui è stato un grande un buon atleta nell'ambito del judo dove si fanno sempre molti lavori ad alte intensità interval training sia nella preparazione atletica ma anche proprio nel pre gara proprio per attivare molto i sistemi per chiamiamolo quello sbloccare il fiato no che negli atleti è abbastanza una cosa abbastanza di diffusa e tra l'altro l'allenamento ad alta intensità interval training alza l'HRV chiaramente in un secondo momento però è un'attivazione molto molto forte molto efficace per cui se uno è abituato a svolgere quel tipo di allenamento e lo fa in preparazione ha una grande efficacia poi come come dicevi anche tu chiaramente il lavoro che fai successivamente alla prestazione ma è un po' quello che hai detto anche prima in relazione alle fasi della preparazione dell'atleta no una fase di carico piuttosto che una fase invece di chiamiamolo così di post allenamento o una fase in cui non ci sono gare in cui il lavoro che fai è molto differente perché mentre uno è strutturale è molto più legato alla alla funzione diciamo muscolo-scheletrica l'altro è proprio per prevenire che l'atleta vada in condizioni che possa rallentare il suo ritmo di allenamento e quindi possa successivamente rendere di meno guarda ci sono studi fatti su atleti tra l'altro nuotatori nelle università americane nuotatori di alto livello che durante le fasi di lavoro hanno fatto esercizi di mindfulness e misurando il livello delle fasi nel sangue si è visto che quelli che facevano pochi minuti di mindfulness al giorno avevano un livello di leofasi più alto rispetto a quelli che non facevano niente e c'era una differenza mi sembra poi di problematiche di vario tipo insomma da raffreddori a problemi di questo tipo influenze ecco niente di stato osferico chiaramente ma anche dell'80% ci sono molti studi a riguardo su un approccio a 360 gradi l'alimentazione è un altro aspetto fondamentale spesso mal gestito mal curato insomma deve essere l'atleta che in modo autonomo magari si informa però se vuoi essere un atleta professionista oggi secondo me non può crescere ma guarda non solo professionista perché come ti dicevo prima ci sono proprio persone che si buttano nel mondo dello sport esagerando che vanno incontro a problematiche infiammatorie croniche proprio perché non hanno mai la fase di recupero perché comunque hanno un quadro alimentare e tutto quanto che lascia un po' a desiderare quindi avere tra l'altro prendendo degli integratori un po' a casaccio quindi avere una conoscenza di base su questo è sicuramente un aiuto perché sistemi tampone abbiamo visto come l'HRV in relazione ai fattori infiammatori come la nutrizione e alcuni integratori di sistemi di tampone possano modificare lo stato di acidosi cronica anche post allenamento se vai a cercare gli studi sulla nutrizione e sulla integrazione alimentare degli atleti vedi sempre che alla base ci sono antiossidanti proteine in particolare i più grossi studi sono stati svolti sulla creatina sui cicli di creatina qualcosa sulla glutamina nelle sindrome da overtraining però sono comunque componenti proteiche che evitano l'usura e gli aminoacidi ramificati che evitano l'usura muscolare e quindi evitano poi quell'effetto catabolico e tutta quell'acidosi e su questo si trovano parecchi studi anche proprio a cuore addirittura tutto questo riduce l'acuità del campo visivo questo è un altro fattore tutto ciò che porta infiammazione provoca stress negli sport di situazione riduce quello che è il campo visivo per cui tu non rendendoti conto di quello che succede intorno a te ti si riduce il campo visivo vai più facilmente incontro infortuni ma più facilmente fai errori e leggi male il contesto che devi andare ad affrontare ora nel nuotatore è relativo ma in un campo da pallonuoto è un aspetto centrale fondamentale no ora ci sarebbero veramente un sacco di cose che adesso so che all'epoca manco sapevo che esistevano ma manco c'erano le pubblicazioni all'epoca di questi argomenti c'era una visione veramente molto direi veramente dilettantistica di tutto quanto oggi ci sarebbero delle potenzialità infedibili straordinarie bene io vi ringrazio e vi faccio un grande saluto spero che ci saranno altre serate come questa di approfondimento e di condivisione di esperienze mi è piaciuta molto spero spero anche a voi benissimo ciao a tutti ciao grazie mille ciao a tutti grazie a voi ciao 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 ciao